Tornano gli aperitivi al Museo di Pestum tutti giovedì dalle ore 18 alle 19.30, in concomitanza con l'ingresso gratuito al Parco archeologico. La novità di quest'anno riguarda i proventi che l'Associazione Amici di Pestum, referente dell'iniziativa, devolverà per uno scopo sociale, visite per ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico. Già da tempo il Parco organizza delle visite nei depositi del museo per persone con esigenze speciali. I percorsi di visita, denominati Un Tuffo nel Blu, sono curati dall'Associazione Cilento for All, che con le università Federico II e Partenope di Napoli conduce una ricerca su come l'arte possa essere strumento di comunicazione alternativa e di terapia cognitiva. La raccolta fondi organizzata dai amici di Pestum ci consentirà di incrementare l'offerta per famiglie con un figlio o una figlia con bisogni speciali, senza creare barriere economiche, dichiara il direttore Gabriel Zugtrigel. Al tempo stesso, gli aperitivi del giovedì continueranno a essere un momento di aggregazione e confronto per il territorio, all'insegna di una nobile causa. La buona riuscita della raccolta fondi è frutto di un lavoro di squadra che vede impegnati accanto al Parco e ai amici di Pestum alcune cantine vitivinicole del territorio campano, che offriranno i propri prodotti agroalimentari a sostegno dei progetti di accessibilità del Parco. Finora hanno aderito le aziende Ermaa, Rotolo, Luna Rossa e San Salvatore 1988, ma si punta a coinvolgere anche le altre aziende con la sottoscrizione di nuove adesioni con l'associazione Amici di Pestum. Siamo molto felici di sostenere un progetto dal così alto impegno sociale, dichiara la presidente Teresa Giuliani. Da sempre l'associazione Amici di Pestum è accanto al Parco archeologico. Tutti i soci partecipano con entusiasmo e grande impegno alla realizzazione di iniziative che noi amiamo definire vive, cioè capaci di creare qualcosa di positivo in più. Così come è stato per il ripristino degli spazi interni al Museo del Giardino di Era con la realizzazione di un percorso olfattivo per disabili, nuovamente scendiamo in campo a favore delle persone speciali che con i percorsi nei depositi potranno sentirsi protagonisti indiscussi del pubblico di Pestum.